Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di assaggio di bevande, ci risiamo ragazzi, quinto episodio di assaggio delle bevande oggi andremo ad assaggiare come avete letto dal titolo e come avete visto dalla miniatura la monster più buona al mondo ragazzi non lo dico io che la più buona ovviamente potrete avere le vostre opinioni ma l'hanno detto esperti ragazzi quindi anche se andate a cercare i monster più buoni su internet vi appare in seconda fila quella che sto per andare ad assaggiare ragazzi quindi incredibile, prima che inizi il video però lasciate tutti un bel like, voglio 50 like per questo video che so che impazzirà, sponderà come gli altri grazie per tutte le visualizzazioni degli altri video precedenti di assaggio di bevande e niente adesso iniziamo subito, un bel like ne voglio 50 ragazzi e noi andiamo ad assaggiare subito la monster più buona al mondo, facciamola apparire qui davanti a me tra 3, 2, 1 ed eccoci qui ragazzi ci siamo, ci siamo con il calice e con la monster la tastiera per dare un tocco di effetto dire di metterla viola come la monster, eccola qui ragazzi la nostra tastierina viola, tastierina allora ragazzi oggi andiamo ad assaggiare questa monster che sarebbe la energy ultraviolet ragazzi eccola qui, eccola qui, adesso ve la andrò a far vedere nei dettagli e poi la andremo ad assaggiare ragazzi si presenta in questo modo da lontano e adesso ve la farò vedere da vicino e dopodichè la andremo ad assaggiare ed eccoci qui ragazzi con la monster più buona al mondo, zero zuccheri ovviamente, zero sugar ok eccola qui ragazzi intanto l'arenella di fortnite dietro, non ci fate caso, ultraviolet monster ultraviolet e andiamo a girarla ragazzi, un pegos, non so come si chiami questa dollaro tipo allora, crantin, no carnitine, 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 monster energy ultraviolet ragazzi adesso vi andrò a dire anche il gusto quando lo assaggerò e poi qui c'è la storia ragazzi che non tradurrò perché mi scoccio un botto molto belli questi effetti ragazzi sono davvero molto belli, mi piacciono un botto anche il fiorillino qui, ragazzi molto belli, le stelline non le abbiamo viste in tutte le monster GG ragazzi, adesso le andiamo ad assaggiare però, vediamo un po' che colore ha andiamola a mettere nel nostro calice ed eccoci qui ragazzi, siamo qui per assaggiarla, io direi proprio di andarla ad aprire allora, piccolo smr, solo che non so se con queste cuffie funziona alla grande oppure no, vediamo ok, non lo so se è funzionato con questa monster ah, da quanto tempo che non sentivo odore di monster allora ragazzi, allora ragazzi io sento già, allora esame olfattivo come tutte le volte dobbiamo sentirlo prima con il naso per vedere che sapore, per sentire i sapori che avvertiamo vediamo allora io in questo momento sto sentendo la mora ragazzi non so se sia mora, sì, mi ricorda molto quelle caramelle che vendevano ai supermercati con le more ragazzi, ai mirtigli, alle more ragazzi, non so se l'avete mai comprata comunque, mi ricorda molto quello sì ragazzi, mi ricorda molto quello, dopo andiamo a vedere il gusto non l'ho ancora visto, vi giuro ragazzi, su tutto quello che volete ok, io direi di andarla subito a versare ed assaggiare ragazzi versamento, versamentazione lo sapevo ragazzi, è qualcosa di sempre, quindi non vi preoccupate ok ragazzi ok versiamo questa quantità, tanto dobbiamo solamente andarla ad assaggiare è viola ragazzi, è quasi viola un violetto diciamo, lilla, lilla ok, questo è il colore esatto, lilla è lilla e noi l'andiamo ad assaggiare proprio ora ragazzi allora, voi non lo vedete bene il colore, però da lontano si avverte molto ragazzi abbiamo messo anche la tastierina di colore viola 3, 2, 1, io sento la mora, vediamo un po' cosa sentiamo all'esame di gusto vediamo non sono un esperto è un sapore che ho avvertito già nella bevanda in questa bevanda l'ho già avvertito in questa bevanda ragazzi eccolo qui, è all'uva ho sentito l'uva in questa bevanda e la sento anche ora però questa è uva rossa, questa era uva bianca ragazzi sono troppo, allora sono troppo sviluppato di sapori i miei sapori sono sviluppati allora io dico mora e uva ragazzi sento questi due sapori non so se c'è anche un po' di mela, non lo so ma adesso andremo a vedere i sapori sulla lattina vediamo un po' di chissà ragazzi io sono troppo intelligente al gusto uva, questa mostra è al gusto uva e ci ho azzeccato ragazzi è qualcosa di incredibile avevo detto anche mora ragazzi perché l'avevo avvertito anche questa bevanda che poi avevo letto il gusto, quindi da una parte non vale perché avevo letto il gusto di questa bevanda e da qui mi sono riferito qui va bene però comunque può valere in qualche modo perché mi sono ricordato quel video non è che l'ho fatto molto presto cioè poco tempo fa l'ho fatto abbastanza tempo fa comunque ragazzi non ho abbinato il sapore della mora perché non c'era ragazzi per questo non ho indovinato il sapore della mora ma dell'uva si sono arrivato questa bevanda è una bevanda all'uva frizzantina ovviamente come tutte le mostre ragazzi anche troppo frizzante direi ragazzi però è molto buona ragazzi lo zucchero è messo allora qui dice senza zucchero però un po' di zucchero ce lo devono mettere se no è troppo amare ragazzi lo zucchero è messo nel modo giusto non è troppo dolce né troppo non dolce non so come si dica non mi ricordo la parola l'ultimo esame ragazzi e poi descrivo un po' più di cose ok ragazzi allora potevano farla un po' meno frizzante ragazzi questo è poco ma sicuro ma questa è la frizzantezza di tutte le mostre e ci sta ragazzi serve a gasare un po' le persone vedete come sono gasato perché ho bevuto la mostre ovviamente ragazzi la mostre è consigliata da sopra ai 16 anni dai 16 anni in poi come ovviamente la level up che ho recensito l'altra volta l'unboxing e dovete mangiare prima di berla altrimenti si brucia tutto lo stomaco e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ho appena assaggiato la mostre più buona al mondo e direi di approvarla ragazzi il voto gli do un 8 e mezzo ragazzi quel voto e mezzo forse glielo ho dato anche a quella rosa l'8 e mezzo comunque quel voto e mezzo è perché è un po' troppo frizzante ragazzi e disturba un po' diciamo vabbè va bevuta in minor quantità di quanto la sto bevendo io ragazzi vabbè io ho bevuto da qui a qui però ragazzi questa mostre va gustata quindi man mano che giocate alla play ragazzi vi da un botto di carica in game e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tutti un bel like arriviamo a 50 like mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi è stata davvero molto buona questa mostre ragazzi non me lo aspettavo seconda in classifica eh da quelle che ho assaggiato fino ad ora ciao ragazzi